Poi certo, se mi dite che qualcuno ha costruito la sua carriera su indagini che poi si sono rilevate fondate sul nulla, questo ci sta ma sta in tutti i mestieri, non è una deviazione della giustizia. È chiaro, nella giustizia ciò rappresenta qualcosa di più grave. Io immagino, sotto gli occhi di tutti, non lo so, Woodstock, conosciuto nella cronaca per almeno tre indagini che hanno fatto scalpore, di queste tre indagini non si sa cosa sia rimasto.